Le leve sono sparite! Già guarda, non mi piace. Vieni qui. Bella a tutti i ragazzi, qui Erox. Bella a tutti i ragazzi Erox della chat. Fa schifo! Vabbè, comunque stiamo ritornati con un uomo. Un uomo appuntata. Ciao a tutti i ragazzi, io sono sempre qua, sono Jaguars. E ovviamente... Il mio cane, che mi rompe le palle. Mi rompe le palle come sempre. Ecco, lo sentite? Bene ragazzi, in live qua con noi c'è anche il cane di Jaguars. Ti saluta tanto... Ok, ritorno subito ragazzi. Pane di merda. Vabbè, capita. Ma non so se ha stoppato o cosa. Vabbè, io intanto in casa faccio cobblestone. Cobblestone fino alla morte. Così... Così niente. Parapaparapapapam. Eccomi. Ma stavi registrando ancora? Eh, certo. Ah, ok, perfetto. Allora ho fatto bene a non smettere di registrare. Bastardo, ti sei preso la mia cobblestone. Questa no, però. Ok. Io volevo... In questa puntata noi volevamo andare un po' a cazzeggiare nelle isole. Oh, grazie della tua terra. Aspetta. C'è? Ah mo, ragazzi, ha stoppato di nuovo. Mh, vabbè. Stavo dicendo, in questa puntata volevamo prevalentemente andare in giro per per le isole. Così almeno prendevamo un po' di materiale e se tropevamo le leve è ancora meglio. Così, vabbè. Calcolate che adesso... Allora, vedete una cosa. Il fatto che non c'è già qualsiasi profitto per dirvi una cosa. È il 28 del 2 febbraio. Secondo voi quando è che caricherà questo questo episodio? Per me lo caricherà un bel po' dopo. Aspetta. Mi si è buggato di nuovo il mouse. Vabbè. Che c'è da dire oltre a questo? Niente. Vi voglio bene. Vi amo. Ehm... Ma quand'è che arriva quell'idiota? Vabbè. Intanto sono cresciute un po' le culture dunque credo che possiamo iniziare a fare qualcosa da mangiare. Tra l'altro io ho tre coscette. Sto morendo di fame. Cosa molto interessante. Ok. mi sono stanco sono stanco di parlare. Ehm... Ciao a tutti. Il mio nome è Irox vengo da Bergamo e... succhiatemelo tutti. No, scherzi. Ehm... sono stanco ragazzi. Veramente. Sono le dieci e mezza e sto morendo di sonno. Giornata faticosa per me oggi. non vi dico quanto. Quante sofferenze. Venga! Non ci sto più dentro. Ok ragazzi. Può essere che vi stufate sentire solo me. Ma se quell'idiota di Jaguars non... ecco avete capito. Anzi. Lo porto fuori. Lo porto fuori con me. Sempre se riesco. Ok. Porto fuori la telecamera. Portiamo fuori la telecamera. Dai. Telecamera di merda. Vai fuori. Ok. Fuori. 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 Hai fuori telecamera. Dai dai. Perfetto. Ok. Stavo dicendo. Ora mi potete vedere meglio. Se questo brutto idiota... Ma scusa. Scusa Jaguars. Non volevo. Scusate ma Jaguars ha avuto un piccolo problema tecnico. Gli mancano i pantaloni. Comunque. Intanto che io nerdo qua. Facendo un po' di cobblestone. Direi che si può aspettare quell'idiota che arrivi. Intanto espandevo un po' l'area qua. Perché almeno ah mi sa che è arrivato? No. Cazzato. Magari fosse arrivato. Ciao. Ok. Eccoci ragazzi. scusatici ma una piccola cosa per colpa di Hirox. Te lo spiego di io. No. Perché sempre io. Comunque ragazzi se volete fate una colletta chiamate il numero di sovrimpressione per vendere il cane di Jaguars. Così non ce l'avremo più tra le palle. Grazie per la cobblestone. Fammi una. perché non mi dai la cobblestone un bastardo. Ok. Mi manca un cazzo di pezzo di cobblestone. Ah perché sto facendo cobblestone? Ok allora. Non lo so. Io guardate io ho finito guarda intorno alla casa. Vieni a vedere. Sì aspetta un attimo. Queste queste Ah hai la legna. Legna? Sì e dove sono tutti i sapling? Ce li ho io 25. Ma stai bene. Menti quel fissato. E dammi la legna. No. Come inno. Come inno. Ok tieni. Ne ho poco. Solo tre messe. Ah ok pensavo di più. Eh Su cammelo. Eh No non dicevo te. Ah no mi servivano c. Adesso prenditeli. Intanto Mi avevi già dato 5. Ok sto morendo di fame hai qualcosa da mangiare. Ci sono delle coscette in giro no? Ma io le mie cose eh pane però. Hai il pane dai mangia il pane chi se ne frega è lì a posto. O no? Ciao. Ok challenge annullato. Perché? Era da pane di challenge. Eh vabbè abbiamo mangiato un petto di challenge chi se ne frega. Ok. Buona la challenge. Ok. Allora. Vado in una isra. No vengo anch'io aspettami. Quello di roccia ma va. No l'ho già esplorata io. Quello di roccia? Sì sì. Bastardo. Cosa c'era? Mmm una leva. Aspettami che vengo anch'io. Nient'altro. Già. Nient'altro. Ok vado un attimo di via. Prendi il carbone. Il carbine. Bastardo anche te ci sei fatto la la barchetta. Sì. Anche io. Arrivo. Ciao guarda aspetta ma l'avevi già preso il carbone se non sbaglio. Allora andiamo di là. L'avevi già preso? Sì. Ecco. Arrivo da guarda. Guarda cosa c'è scritto lì. Cosa ho scritto? Lui ha scritto la R. Ok prena. Prena. Se no ritorniamo a piedi. So che qua c'è un dungeon. Io non mi ricordo neanche. Di ragni. E non abbiamo neanche le torce. Chi se ne frega. Eh sì io ne ho una. Perfetto. Ok mettilo in fondo. E che. Oh cazzo. Fossati. Mettilo lì. Perché non ce l'hanno? Oh ce l'hanno con te. Ah ah aia. Vai 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 prendi prendi prendi. Una leva ragazzi. Mi ho trovato una leva. Ora risaliamo. Alla stessa velocità con cui siamo scesi. Beh mi riprendi anche la torce comunque. No no vabbè. Mi piaceva. Eh era la mia amica del cuore. Ora dove vai? Mi raccomando prendi la tua barca. Dove vai? Dove vai? Ti doi vita alle spalle? Mi dai una spinta? No! Ma te la vieni! No! Bastardo! Ok andiamo su quella Trovi un po' Tisane culo! Bastardo! Te lo fai a Pd anche te! Oh cazzo Ha una spada Non dimentichiametelo No! No! Oddio! Beh ricordi eh! Perché è blu? Cosa? La cosa? Ehm... E' rosso E' testo il pack bugato Si ubriaco Ci vado io ci vado io ci vado io Ok vai te vai te vai te Ah! 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 Vero lì ci sono tutti Ci sono tre dungeon lì Ah! All'epoca in chi libe Ho trovato qualcosa Ovvio Ha un'altra leva Siamo a due levi che manca una Settel di manco Siamo a tre levi Sì Quattro del diamante Ma quantità non ci sono lì Eh tre 1 2 3 dove sei più difficile salvami ok verso l'isola clay quella lì mi vuoi bene mi vuoi bene ti do una spinta grazie non mi ha spinta al contrario pure con fushro da fushro da aspettami fushro da perchè non ci arrivo pezzo di merda ok mano alla paletta oh ce l'hai anche te la paletta fushro da e che cazzo credo che avevi ragazzi abbiamo tutti tre le leve ma non possiamo spostarsi dall'isola quattro le leve qua abbiamo anche dell'oro ma non abbiamo il ferro andiamo a prendere il ferro credo che dove è il ferro è la isola fungo è vero spinta al contrario è bastardo qualcosa c'è che non mi ricordo non darmi la spinta bastardo non darmi la spinta bastardo oh prendi osservo domino senso non so non abbiamo messo niente nient'altro erro non c'è un cazzo quanto è un po' la terra quanti pesi di ferri ferro quanti pesi di ferro ah si prendi tutta questa costa terra può servire ok può servire tutta questa terra chissà ok in cui da ora la gialla per il serenze ci siamo un fuoco gigante non quel fatto prendi l'intero eh sì c'è già tutto da tutti e due ma solo un caso ci serve solo uno ci serve già abbiamo esplorato tutto eh no ci manca la redstone davvero mi sa la nel materiale indistruttibile credo la redstone si oh sorry ti piace la casa? perché le ridi ahahah che ci fanno quei alberi? ahahah pensavo che d'essere un tocco di stile ahahah vabbè ma come si sale? non si sale ma what the fuck? ahahah vabbè devo ancora capire perchè jaguarz ahahahah eh hai delle mh dell'appunto vodoro oh oh sono cresciuti ci guarda ok ah qualche volta mi sembra che è il team quando tipo best flash gambe modi Scusa. 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 Oh. Ugo da! Ma sì con la skin. Certo, te? Sì. Mi vedi con la skin, te? Certo. Perché ho account premium. Panamana manamana manama. Ok. Da due mesi. Ok. Iniziamo a cuocere il carbon. E il carbon. Che mi guardi? Bastardo, rimettilo dentro. Dai, cazzo, che adesso non si scalda. Non lasci dentro. Ok. Andiamo a combattere un po' di mostri. E vai a prendere le ossa che ci servono per i funghi. Ehm. Come? Come faccio a prendere le ossa? No, devi prendere le ossa con la sua. Come faccio ad entrare? A casa. Ehm. Che immagini questo. No, no! Vattene. Sei un pessimo soggetto. Guardami. Yeah. Vengo a salvarti. No. Non ho bisogno di te. Cosa? Non ho bisogno di te. Aspetta, è meglio che ci faccio due cose di andate e ritorno. Perché se no... Mi dimentico. Perché... Perché nell'isola di fungo ci sono tanti mostri? Non chiede. Sempre tanti. Ma vaffanculo! Ho incastrato una barchetta nella casa. Ho incastrato una barca nella casa qua. Merda. Ma amore questo. Ta-pa-pa-pa! Ta-pa-pa! Ta-pa-pa-pa! 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 Ta-pa-pa! Ecco, già, guarda che c'è il te... Oh, cazzo, se mi spacca la barchetta è un figlio di qua. Oh, marda, quanti... Quanti scheletri! Oh, cazzo! Eh, potevi fare una barchetta anche per me. Eh... Non te la meritavi. Che bastardo. Cos'è che c'era nell'isola Clay? Levo? Eh? Levo. Ah, già la leva. Ma quanto sei? Quante levo abbiamo? Eh, là c'è del ferro già... Nell'isola Clay. È di lato. Ferro? Ho già fatto un piccone di ferro. Capito? Eh... Oro, non ferro. È oro? Sì. È sicuro che non lo vedi male? Sì, sì, qua. È oro. Ma mi serve il piccone. Ah, arriva, dai. Prendevo diamante. Oh, vaffanculo! Che c'è? Eh, se sto sto a un'altra cosa. E tu dove sei? Isola... Neterra. Ok. Arrivo, eh. Oh, sei diamanti. Oh, guardi, guardi, guardi. Uh, vai che cazzo. Fazzono, non romperti barchetta. Ti prego. Va, chi è? Dai. Si è rotto. Eh, sì, sì, sto arrivando. Si è rotto. No, 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 no. Guardami, guardami. Oh. Arrivo! Scappa! È meglio rallentare. Ma sei sicuro che è oro? Eh, sì. Ti prego non spaccarla. Se arrivo lì ho del... Ho del legno per fartelo anche a te. Che? Ho del legno per farlo anche... Oh, spero, oro. com'è che ti sei già preso la mia barca ecco perché vedo qualcosa di legnoso e come arrivo adesso io là come si sono arrivato io lì ok ok butto i diamanti nell'oceano 1 2 fatto bene uccidermi non è un'altra direzione l'isola direzzi in quali torna è la in quell'isola no quelli lì di sabbia 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 affanculo è un bastardo è un bastardo dove devono vai ecco vado a prendere redstone oh che ti fa uno zoom ma il redstone è in quello di sabbia no non credo ma l'ho visto io ma tu non vedi niente tra poco andremo lì nel tesoro ok nel prossimo episodio andiamo a prendere il tesoro per ora oggi finiamo tutte le challenge poi come tutte e vabbè ma ce ne mancano poche ormai ce ne mancano proprio 2 ma neanche prendi 10 pesci fai 20 scale ok inizia a fare le scale non ho degna barca baggata e infatti c'è la barchetta baggata nella casa non capisco come diavolo abbia fatto tipo la posizionata così muto e devo cercare delle ossa io legno gi sono le 11 ma dov'è la redstone veramente le 11 non ho fatto due scale ho fatto due scale ho fatto due scale sei un figo quando ci mancano 1 2 3 4 5 6 ok sei in tutto 4 4 4 4 4 4 ok ho preso anche la redstone e con questo è un'altra challenge fatta 4 4 ok 11 4 4 4 5 5 5 5 ok sto per arrivare dalla nostra sexy quando abbiamo inizato questa isola questo ha diventato ma può costruirla io avevo pensato che era una tavola 4 4 4 4 4 4 5 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 6 7 7 7 8 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 19 20 rale 19 20 21 regole perché non me le ricordo come regole e lei per vedere a che risultato di un pochettino eravamo arti ces unici unicisca amo parte quello tu guarda quello eccolo qua non è per mandiamo 19 eccolo qua 21 scale challenge fatto 21 posizionale posizionate eh un attimo a me mi sta mi sta caricando la pagina delle delle cose ah metti il challenge nella chest c'è solo la pistola zio lì cosa? metti i challenge nella chest io ho reso su un tipo allora fatto vabbè fatto ma kli? che c'entra? eh c'entra fatto assuntura non lo so davanti tutti i diamanti no mastardo eh? 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 Handy io ho reso m sì da solo dove sta andando? oh cazzo capitata letta non mi piace allora abbiamo un po' atto che la generazione di cobblestone fatto espande l'isola principale fatto fai una casa nell'isola principale fatto metti venti 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 nella casa fatto eh crafta o letto fai una coltivazione di grano fatto anguria fatto cane da zuffero non fatto ok fatto no 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 guarda me cosa guarda me ti vedo che ti fai la no no aspetta java avevamo mantenuto piede una promessa le eleve sono sparite non mi piace vieni qui ho 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 puoi finirla no sto scherzando ma tanto anche se prendiamo tutto cosa diamante tutto c'è continuiamo le ceres solo che sarà un po' più facile con diamante eh già ma abbiamo finito ok vengo vengo lì e eh finiamo questo ok va bene va bene eh intanto finisco crafta o del pane fatto cattura dieci peci ci manca conquista tutte le isole fattole fattole wow raccogli 65 eh 64 frecce e crafta un arco vabbè fai 20 scale fatto fai un fungo gigante rosso ci manca ci manca i pesci e le pesci e poi voto fungo pesci e fungo solo due basta si non ci credo pesci fungo e cartelli scusa vediamo si posso fare la canata festa ah ci penso io lascio da me voi farete eh ok tieni occhio tu mi baghi sempre postati ok vai tutto tuo grazie ti lascio anche una cesta qua in parte grazie anche un'altra qua in parte e anche un'altra qua in parte non so e anche una qua dietro anche una qua si sa mai e per e si sa mai ti metto del diamante in parte a te eh dove il pesce l'ho preso ahahah è caduto spaventiamo i pesci arriva è arrivato e ciao era arrivato il pesce oh la la aspetta no aspetta vediamo quando arriva andiamo troppo pesce troppo pesce troppo pesce già guarda ok facciamo nel ultimo cioè nel prossimo episodio e lo facciamo velocizzato nell'ultimo episodio si è meglio già questo episodio è durato troppo quindi finiamolo qua finiamolo qua ok dai dai gli adventure brothers è tutto e ciao ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao